Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso, ho finalmente arrivato, questo l'ho ordinato pochi giorni fa, è il mio primo rasa erba scoppio, in realtà il secondo, uno l'avevo acquistato usato tempo fa ma è durato pochissimo, questo è nuovo, vi spiego perché ho preso questo, siamo sulla linea semi professionale, l'ho acquistato su AgriEuro, adesso vi parlo delle specifiche tecniche, vi faccio vedere un po' come funziona, ma prima vediamo il montaggio. Eccoci sul canale, allora vi arriva in questa scatola enorme, ci vogliono due persone per muoverlo, arriva poi un'altra scatola piccolina con dentro l'olio motore perché lui è senza olio, bisogna ricordarsene prima di metterlo in moto se no si fanno i danni, è in acciaio smaltato, come dicevo è della serie semi professionale, quindi a me serviva una macchina robusta sia come motore che come scocca, con alcune caratteristiche come ruote alte per pulire il frutto. Un po' il giardino che ho davanti a casa e sedesco anche l'uliveto. Ho scelto Blackstone e vedo che anche Dan sta cominciando a conoscerlo, ho scelto Blackstone perché è una marca relativamente nuova ma proprietaria di AgriEuro, quindi so come lavorano, sono già clienti, è un'azienda estremamente seria. Se dovete acquistare una macchina, questa parliamo di circa 330 euro, non è proprio economica, quindi se dovete acquistare una macchina semi professionale o andate in un negozio vicino casa dove avete poi l'assistenza oppure se volete risparmiare un po' dovete acquistarla online. Io ho scelto AgriEuro perché so come lavorano. Di questa macchina esistono tutti i ricambi, vi lascio qui l'esploso. I ricambi li vedrete una volta che avrete fatto l'ordine, quindi una volta fatto l'ordine, dallo storico degli ordini troverete poi l'esploso con tutti i ricambi e questa è una cosa molto importante. Ruote su cuscinetti, quindi abbiamo una robustezza intrinseca proprio dell'asse di trasmissione, trasmissione posteriore, ruote alte, unica leva per regolare l'altezza di taglio. Vi lascio qua sopra in evidenza tutte le caratteristiche tecniche principali. Dai cominciamo a montarlo, se no i gatti qua. Troverete due manuali di istruzione, uno dei due ha le istruzioni in italiano, c'è poi un Deplian di AgriEuro dove collegandosi col proprio account si può scaricare il manuale in italiano dettagliato. Io questo non l'ho fatto, sto usando quello suo originale. Prima vediamo il montaggio e poi vediamo le caratteristiche di taglio che sono molto interessanti, è una macchina completa questa. Non c'è molto da montare, ci sono quattro di queste manopole. Allora il montaggio è abbastanza semplice, abbiamo la testa del bullone sagomata che prende esattamente la forma della parte esterna. Eccola qui vedete, rondella, manopolina, quindi qui non abbiamo bisogno di attrezzi. Qui al fondo facciamo la stessa cosa, roba di pochi minuti davvero. Adesso montiamo il portalattine, che a mio avviso è una figata incredibile, cacciavite a croce, semplicissimo. Ok, gli accoppiamenti sono un po' precisi, quindi bisogna giocare un attimo con i fori. Andiamo adesso al sacco di raccolta dell'erba e di materiale rigido. Vi arriva smontato, bisogna semplicemente infilare queste clip, lo tiro fuori per farvi vedere. Ecco qua, vedete, si infila dentro, si monta anche nelle parti laterali e lui rimane semirigido. La parte centrale, ovviamente, il materiale plastico si riempie mano a mano che arriva l'erba e la parte superiore e inferiore invece sono rigide. Vediamo il montaggio sulla macchina. Il montaggio intuitivo è veramente semplice. Si solleva, vedete questi due fermi qui, vanno incastrati qui dove abbiamo il rinforzo metallico. Quindi semplicemente si incastra e si lascia la copertura. Bene, lui è fissato. Ovviamente, ciò che non vi ho fatto vedere, ve lo faccio vedere adesso. Prima di montare il cestello va rimosso il tappo mulching. Questo qua, ecco qua. C'è un incastro qui sotto, c'è una linguetta, si preme e si sblocca. L'erba tagliata entra poi nel cestello. Se invece si vuole utilizzare come mulching, si rimette questo a un verso e l'erba tagliata rimane poi sul terreno. Allora, finito il montaggio, vediamo un attimino le caratteristiche tecniche principali. Motore da 196cc, 4 tempi, monocilindrico, valvole in testa, circa 6 cavalli di potenza. È una buona potenza, è un buon compromesso. Il serbatoio della benzina contiene circa un litro. Vediamo adesso la parte sottostante che è molto molto interessante. A me serviva una macchina che potesse tagliare molto velocemente grossi spazi. Questa ha una larghezza di taglio di 53 cm, ha lama in acciaio temperato di tipo universale che permette di fare tutti e quattro i tipi di tagli, ovvero mulching, scarico posteriore, scarico laterale e raccolta nel sacco. Tutta la macchina pesa 41 kg e, come vi dicevo, la scocca è in acciaio smaltato con una circonferenza di 57 cm. Torniamo alle ruote. Le ruote sono molto grandi, io le cercavo proprio così. Dietro sono di 270 mm, davanti le abbiamo da 195 mm. Sono gommate e, come vi dicevo all'inizio del video, sono su cuscinetti. E questo permette di avere una buona robustezza generale della macchina. Una parola solo sul taglio mulching, che non ve l'ho detto prima. L'avevo già affrontato sul discorso sul mio articolo di questa erba. Il taglio mulching è ideale per chi vuol lasciare l'erba a terra. L'erba viene tritata finemente, viene quasi polverizzata e, in pratica, non rimane quasi nulla. Ciò che resta sul terreno viene dissolto nel giro di pochissimi giorni e quindi si può utilizzare anche sui prati di una certa qualità, senza dover poi raccogliere l'erba e portarla magari in discarica o farci composto e quant'altro. Termino con la parte bassa, facendovi vedere qui che c'è l'attacco rapido per inserire il tubo dell'acqua, per poi pulire tutto il piatto una volta che si è utilizzata la macchina, è molto comodo. E qui ovviamente abbiamo il filtro dell'aria. Con una cartuccia di quelle universali, si trovano dappertutto, durano molte ore. E quando è sporca, semplicemente si cambia. Davanti abbiamo primer, primer, come lo volete chiamare. Serve per caricare il circuito della benzina una volta che abbiamo messo la benzina nel serbatoio, che dobbiamo metterlo in moto. Diamo una decina di pompate, si carica l'impianto. Qui abbiamo la candela, posta in posizione molto comoda, con la sua pipetta. Non tolgo perché adesso non mi serve, ma non bisogna smontare nulla e questo è un buon vantaggio. Abbiamo la marmita con la sua copertura di sicurezza. Da questa parte invece abbiamo la regolazione dell'altezza di taglio, che è molto importante. Abbiamo sei posizioni di taglio, da 25 a 75 mm. Con una leva unica, ecco vedete, adesso mi metto al massimo. Qui abbiamo la ghiera, dove possiamo scegliere le varie posizioni. Uno è la più bassa, due, tre, così via, fino a sei. Si tira la leva verso di noi, verso la macchina fotografica, e poi la si riposiziona nel foro desiderato. Ecco qua. Io penso che utilizzerò all'inizio, soprattutto nel frutteto e nell'uliveto, la posizione più alta, mentre qui nel prato davanti a casa posso utilizzare una intermedia. Questo perché probabilmente per terra potrei avere dei sassolini, potrei avere dei rami e non voglio rovinare all'inizio almeno l'organo di taglio. In dotazione ci vengono fornite due lattine da 600 ml l'una di olio 15-40. L'astina è graduata, è tutto in diretta. Che spettacolo. Dan, mi dai una mano? Dai, dai non ti faccio niente, su. Abbiamo i simboli minimo e massimo qui. Faccio decantare un attimo. Ok, ci siamo. Fate attenzione a me è successo. Utilizzando il tappo, togliendolo e mettendolo, potrebbe togliersi uno R. L'R va in fondo qui. Serve per fare battuta qua sopra. Ve ne accorgete perché messo il tappo si muove. Non deve fare così, ovviamente. Basta rinfilarlo. Ecco qua. Deve fare un po' di sforzo per chiudere e aprire. Ci siamo. Siamo più o meno al minimo. Adesso lo uso un po'. Dopodiché lo farò riposare e rifaccio il livello. Io faccio sempre così, di solito. Ho preparato circa un litro di benzina. Voilà. Diamo un po' di pompate. Clicchiamo l'impianto. Ok. Adesso, prima di metterli in moto, però, vi parlo dei quattro metodi di taglio. Sono tutti validi, tutti comodi. Ognuno sceglie quello che più gli aggrada. Allora abbiamo, partendo dal posteriore, la configurazione mulching. In questo modo qui, con questo kit già predisposto, l'erba viene tagliata finemente, come vi dicevo, macinata e lasciata sul terreno. Se togliamo questo kit qua e mettiamo i suoi tappi qui, per tenere leggermente alzato il coperchio, abbiamo lo scarico posteriore. L'erba tagliata viene buttata qua fuori. Si mettono quei due tappi, per fare in modo di tenere un po' aperta la paratia posteriore, e così permettere la fuoriuscita dell'erba tagliata. Se togliamo i tappi, abbiamo la raccolta nella cesta. Cesta di grandi dimensioni, perché è un 65 litri. Ecco qui. Questa è comodissima se dovete raccogliere, come farò io, per fare poi il compost. Lo lascio già così. Ci spostiamo lateralmente. Ne abbiamo già viste tre. Lateralmente abbiamo lo scarico laterale, con questa paratia qui. Quindi si preme la leva, si alza, c'è una molla di ritenzione. Qua sotto, nel perno della molla, si infilano queste due graffette qua. Ma a posto. In questo modo abbiamo lo scarico laterale. Ovviamente, se usiamo lo scarico laterale, dobbiamo rimettere il tappo del mulching, altrimenti l'erba esce da dietro e da davanti. Ok, mettiamo in moto e vediamo come va. Qui, come vedete, ho l'erba alta, molto alta, fitta. Circa 30 cm di erba. Qui arriviamo a 35. E insomma comincia ad essere un'erba abbastanza importante. L'ho tenuta apposta alta perché volevo fare questo test. Questa, come vi dicevo all'inizio del video, è una macchina semiprofessionale. Tra le caratteristiche principali c'è il variatore di velocità. Non ce l'hanno in molte. Almeno nella classe economica non ce l'ha quasi nessuno. Cosa succede? Con questa leva noi abbiamo i giri del motore. Ok, quando dobbiamo tagliare, mettiamo verso il massimo. Poi magari in base al tipo di lavoro che dobbiamo fare, se l'erba è bassa, possiamo abbassare in qualche grado il numero di giri del motore. Lei lavora in surplus e quindi consumiamo poca benzina. Comunque con questa regoliamo i giri del motore. Queste invece abbiamo quattro velocità che ci permettono di regolare la velocità di avanzamento. E questo è molto importante perché se abbiamo erba alta, come in questo caso, io parto con la velocità 1 e con molta calma cerco di farle macinare tutta l'erba che posso. Se la superficie è piana e l'erba è già tagliata con costanza, possiamo benissimo mettere velocità 3 o 4, andare più spediti e migliorare il tempo di esecuzione del lavoro. Ovviamente ci mettiamo meno tempo. E' anche importante perché laddove abbiamo delle piante da girarci intorno, per esempio, con la velocità 1 possiamo fare un lavoro di fino, con calma. Quindi ho scelto questa macchina anche per questo motivo qui, perché usandola nel frutteto per passare intorno agli alberi mi servirà una velocità bassa. Termino questa parte della leve parlandovi delle due leve che ci sono poste qui davanti al manubrio, davanti e dietro. Questa è la sicurezza motore. Se questa si lascia, si ferma la lama e si spegne il motore. Quindi questa va tenuta sempre premuta. Per l'avanzamento bisogna premere questa qui. Quindi con questa leva premuta il tosaerba va avanti, innesta la marcia. Se ci vogliamo fermare, basta lasciare. Se lasciamo anche questo, si ferma la lama in sicurezza e si spegne il motore. Vediamo adesso la prima messa in moto. L'ho già pompato prima, ma vediamo un po' come va. Vi faccio vedere adesso proprio il funzionamento delle leve che vi ho detto prima. Ora è proprio palese e possiamo permetterci di vederlo sul campo. Per mettere in moto tiriamo la leva verso di noi. Questa è la sicurezza. Leva su max, quella dell'acceleratore. Se lascio la leva, si spegne. Rimettiamo in moto. Se premo l'altra leva, con la prima vado avanti. Ora vediamo un po' il taglio qui in zona. Ora vediamo un po' il taglio qui in zona. Ora vediamo un po' il taglio qui in zona. Adesso proviamo gli altri tipi di scarichi. Laterale, posteriore e mulching. Allora questo è quanto ho raccolto adesso con queste due passate. A me servirà come il pane questo per fare poi compost. Quindi poi lo mischio al cippato e avrò un po' di materiale verde e materiale legnoso, quindi marrone, che è la cosa migliore. Monto i due tappini e proviamo lo scarico posteriore. Prima però, visto che mi sono fermato per qualche minuto, ricontrolliamo il livello dell'olio motore. Come vi dicevo prima, io faccio sempre così. Perfetto. Vedete già come espelle l'erba che c'era rimasta dentro dalla parte posteriore. Vi mostro quello che rimane per terra con questo tipo di taglio qui, che poi è lo stesso rimasuglio che avremo col taglio laterale, solo che lo butterà di lato. Eccolo qui, vedete? Adesso proviamo direttamente il mulching. Vediamo un po' se intanto polverizza questo che c'è rimasto sul terreno e spolverizza l'erba ancora che è rimasta. Magari lì dove sono passato posso abbassare l'altezza di taglio, li metto al minimo, qui ero al massimo. E vediamo un po' il lavoro che fa. Lascio i tappini, che tanto in questo momento posso anche lasciarli, non servono a niente. E provo a fare questa parte qui, dove c'è l'erba alta, poi ripasso in quella bassa, appunto abbassandomi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, mi sono abbassato tutto quello che potevo. L'ultima posizione per me non va bene perché è troppo basso. Il mio terreno non è la tavola da biliardo, quindi si infossava e toccava per terra col piatto, insomma non andava bene. Ho messo la penultima posizione. Sono ripassato, dove ho lasciato i mucchi di erba di prima. Non c'è più niente. Ho macinato tutto. Non sembra che ci siano rimasugli per terra, forse qualcosina qui, ma poca roba. Probabilmente è un grumo che si era accumulato vicino alle ruote. Io un prato così non l'ho mai avuto. Vabbè, qui è poco, comunque saranno 50-60 metri quadri. Ovviamente non è per questo che l'ho comprato, ma mi serviva per fare poi il frutteto, dove il lavoro è ben maggiore. Ecco, vedete lì, c'ho l'erba molto alta, però prima di passare devo pulire perché ho dei sassi, quindi non posso rischiarmi di passare. Oh, c'ho anche un impollinatore, quindi di sicuro non lo disturbo. È un bombo quello dovrebbe essere. Lasciamo il mondo come è qui, ci passerò poi nei prossimi giorni. Manca lo scarico laterale. Vediamo come lavora e poi chiudiamo il video. Lascio il kit mulching dietro. Vediamo il più grosso. Vedete come butta subito di lato l'erba che ho tagliato, quella che era dentro. Adesso ci ripasso, lo vedrete poi nel dettaglio. Il motore non è molto rumoroso, lavoro bene senza cuffie, pensavo molto peggio. Ci vogliono, almeno su questo esemplare qui, un 3-4 tirate di funicella per farlo andare in moto. Magari quello che arriva a voi va in moto al primo colpo, buon per voi. Quindi è comunque una sciocchezza alla fine, sono 2-3 tirate di funicella. Non occorre molta forza per tirarlo, quindi lo può fare anche un bambino. Non mi piace lo scarico laterale per come lascia l'erba a terra perché poi va raccolta, ma lavora molto bene. È un lavoro eccezionale quello che fa, solo che poi bisogna raccoglierlo. Allora a questo punto preferisco raccoglierlo nel cesto e poi, come vi dicevo, fare un po' di compost. Ma questa è una mia scelta personale. Questo nel giardino, ovviamente, nel fruttetto, oppure che ci rimane la striscia per terra, se non voglio raccoglierla va bene lo stesso. Alla fine è tutta sostanza organica che torna al terreno, non si perde nulla. Il mulching è eccezionale, non lascia nulla per terra. Davvero polverizza tutto, quindi vi toglie anche il problema di dover raccogliere poi dopo. Quindi se avete un giardino ben curato, forse il mulching è la soluzione migliore. Volevo solo adesso vedere l'operazione di pulizia del cesto, perché è molto importante dopo aver finito di lavorare. Vediamo un po' come funziona. Intanto vediamo come ho messo sotto. Voilà, mi sono avvicinato. Non è sporchissimo, però è giusto anche dargli una lavata quando ha finito di lavorare. Attacchiamo la pompa qui e proviamo a lavarlo mettendolo in moto, facendo girare quindi la lama. Ok, gli ho dato una lavata, vediamo un po' come è messo sotto. Guardate quanti limasugli ha lasciato a terra intanto. È praticamente tornato nuovo. Comodissimo questo sistema di lavaggio, ve lo consiglio. Non trascurate la pulizia perché è importante. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.